Importante il contributo di 30.000 euro erogato dal Comune di Biella ai progetti destinati ai giovani. Gli oratori si configurano da sempre come luogo di socializzazione e di crescita educativa dei minori che qui trovano accoglienza e confronto sia con i pari sia con gli adulti. Per i bambini l'oratorio è una porta aperta che non tiene conto di ceto sociale, di appartenenza religiosa o di disponibilità economica. Per questo motivo il Comune ha deciso di sostenere con un contributo le azioni e i progetti realizzati dagli oratori a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani allo scopo di ampliare la rete dei servizi e le opportunità di contrasto del fenomeno del disagio giovanile. Su questa questione si sofferma l'assessore all'educazione Gabriella Bessone. Ci teniamo a sottolineare a detto come questi contributi non siano elargiti alla Chiesa. Ma sono a favore di quei progetti ed attività sociali, formative e culturali rivolte ai giovani degli oratori del territorio comunale. I responsabili degli oratori che operano nel nostro Comune hanno inviato un dettagliato resoconto delle loro attività dai quali emerge con chiarezza la loro vocazione di luoghi di aggregazione e di ritrovo per i ragazzi. Gli operatori del servizio sociale da sempre collaborano con i volontari, con i parroci degli oratori della città perché sono una risorsa, perché offrono una risposta in termini di accoglienza a molti bambini che altrimenti non potrebbero beneficiare di contesti aggregativi, adeguati e stimolanti.